Buonasera amiche e buonasera amici di Rossini TV, benvenuti, benvenute in questa interessantissima tavola rotonda che abbiamo organizzato grazie a Confesercenti. Parleremo di tantissime questioni che riguardano la massima attualità e riguardano soprattutto le questioni economiche di tutti noi che sono al centro della nostra attenzione. In primo luogo quindi un grande saluto ad Alessandro Ligurgo che è il direttore di Confesercenti Pesaro Urbino. Ciao, ciao, un piacere essere qui e buonasera a tutti. Benissimo Alessandro, al centro abbiamo invece Francesca Ingrassia che è del patronato di Confesercenti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta. Grazie, grazie mille. E alla sinistra di Francesca c'è invece Filippo Gaudenzi che è il consulente del lavoro di Confesercenti Pesaro Urbino. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche da parte mia. Benissimo, quindi siamo qui. Recentissima la discussione che c'è stata a livello centrale nella politica per la legge di bilancio. Parleremo di questo, parleremo di tantissime altre cose. Iniziamo con Alessandro Ligurgo che è il direttore di Confesercenti Pesaro Urbino, l'abbiamo già ospitato in altre occasioni qui nei nostri studi. 52 anni di vita a livello nazionale di Confesercenti, 48 a livello di quella di Pesaro. Si può dire che per certi versi l'associazione di Pesaro è comunque una delle più strutturate, una delle più antiche d'Italia. Sicuramente sì, ce ne sono altre un pochino più anziane, ma moltissime, molto più giovani. Confesercenti è ormai dentro la struttura della nostra società da tanto tempo. Le imprese, ma anche i cittadini ormai su Confesercenti fanno tanto affidamento. Quello che vorremmo fare è che questa cosa non solo continuasse così, ma venga addirittura maggiorata per quello che riguarda la fiducia nei confronti del pubblico, che sia impresa, ma che sia cittadino e indifferente. Esatto, hai parlato proprio di un punto di riferimento. Un punto di riferimento perché? Perché Confesercenti si applica con imprese e cittadini su diversi argomenti. È in grado di svolgere servizi, è in grado di aiutare su tantissime questioni. Ah, ma in realtà non su tantissime questioni, quasi su tutto. Per quello che riguarda le imprese abbiamo tutti i servizi, tutti ne abbiamo implementati di nuovi, quindi dal corso base per diventare barman, faccio un esempio, fino alla pensione, di cui Francesca poi ci parlerà meglio. Ah, io pensavo che lei fosse invece una interessata al corso barman. Potrebbe, 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 perché so che è interessata molto agli aperitivi, a questo tema. Purtroppo è vero. Anzi, neanche purtroppo. Quindi, ecco, sul mondo delle imprese, Confesercenti è tutto, poi abbiamo da pochissimo incrementato i servizi, anche per quello che riguarda PNRR, quindi bandi, aiuti alle imprese, bonus, tutto quello che esiste. Abbiamo un ufficio che è nato da 5-6 mesi ormai, che sta dando dei grandi risultati a favore delle imprese. Abbiamo messo in tasca delle nostre imprese, i nostri associati, in pochi mesi quasi 5-600 mila euro. E mi ricordo che è rivenuto proprio a presentarlo qui. Esatto, esatto. Sì, era una cosa che avevo in mente. Ovviamente prima c'è un piccolo periodo di formazione, perché quello va fatto. Abbiamo dei nostri colleghi che sono fortemente motivati e a cui piace veramente anche questo tipo di lavoro. Si sono scoperti veramente proprio focalizzati su questo ed entusiasti di questo tipo di lavoro, sia per se stessi, perché è un mondo nuovo per noi, che non avevamo mai intrapreso, ma anche e soprattutto per le imprese. Ti dicevo anche l'altra volta, molte delle imprese sono costituite da famiglie, noi siamo micro e piccole imprese, no? E queste micro e piccole imprese sono in realtà delle persone che sono diventate nel tempo anche amici. Quindi anche aiutare l'amico, che non è solo un associato, ma è veramente uno che fa parte della, quello che dico io, grande famiglia di confesercenti, è anche un piacere. È anche un piacere, soprattutto in tempi come questi, che insomma qualche difficoltà in più c'è. Grande motivo di soddisfazione è sempre quello di aiutare, anche perché ci si sente meglio, e ci si sente inseriti in un contesto sociale più ampio. Alessandro, velocemente, una tua valutazione così di massima su quello che è stato deciso dal governo per quanto riguarda la legge di bilancio? Proprio ancora è chiaro che è tutto prematuro, però proprio cosa ne vinci tu? Sì, siamo a livello di spoiler, no? Quindi sono notizie appena uscite e parliamo veramente di grandi indirizzi politici. Vorrei fare una piccola polemica, ma non deve essere una polemica. Allora, per quello che riguarda le imprese, in realtà mi aspettavo un po' di più. Sinceramente è vero che ci sono dei bonus, è vero che stiamo, no? Il governo precedente, ma anche quello di odierno sta cercando di dare una mano alle imprese, ma secondo me poteva essere un filino più coraggioso e andare nell'ambito, no? Si parla del cuneo fiscale. Per quello che riguardava le imprese, secondo me una bella mano sarebbe venuta dalla riduzione del costo del lavoro. Io per ora non l'ho vista, poi magari nelle pieghe del provvedimento ci sarà e usciranno delle circolari, delle note ministeriali che poi invece mi smentiranno. In realtà, ecco, aspettavo qualcosa di più coraggioso da quel punto di vista. Per quello che riguarda invece il cittadino, eccetera, insomma, vedo che ci sono dei grandi aiuti, gran parte della manovra finanziaria è composta di aiuti, di aiuti alle imprese, di aiuti, ma parliamo di bonus, cioè non è qualcosa di strutturale o di strutturato, che ci stanno, perché il momento è quello che è, purtroppo ancora siamo in regime di inflazione e soprattutto il fatto che abbiano diminuito lo sconto sulla benzina, lì non vedo sinceramente l'aiuto. Ecco, non vedo l'aiuto né per il cittadino che si ritrova comunque a pagare un... la benzina, diesel, eccetera, è cresciuta tanto. Non dimentichiamo infatti che sarà praticamente un provvedimento che porterà da un aumento netto di 10-12 centesimi al litro d'amblè. D'amblè e anche dal punto di vista delle imprese. Le imprese, anche quelle soprattutto aderenti a confesercenti, consumano tanto carburante. Abbiamo agenti di commercio che sono sempre in strada, autotrasportatori che consumano tanta, tanta energia, pescatori. Da un po' di tempo il confesercenti si è avvicinato anche al mondo della pesca, i pescatori... O, peraltro, uno dei settori più colpiti dalla crisi dei carburanti. Esatto, perché loro hanno un'imbarcazione, consuma tanto, 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 anche perché il pescatore, quindi anche quelli a strascico, quelli hanno bisogno di tanta potenza nel motore per cui consuma molto. Ecco, tutte queste categorie, sicuramente me ne sono dimenticata qualcuna, ecco, un beneficio qui di sicuro non l'hanno avuta. Arriverà qualcosa, qualche correzione, qualche correttivo, magari in corso d'anno, qualche decretino ad hoc? Speriamo, speriamo. Oggi come oggi, nella grande mare magnum della legge di bilancio, io non l'ho vista. Ma magari sono io che non sono stato attentissimo alle cose, però come dicevamo, è appena uscito e dobbiamo un attimo vederlo meglio. In generale, però, le cose sono queste. Approfondiremo poi questa cosa anche con Filippo Gaudenzi dal punto di vista delle imprese. Adesso, invece, mi volevo concentrare con Francesca Ingrassia sui cittadini. Perché? Perché una delle caratteristiche di Confesercenti, che a tutti gli effetti è un'associazione di categoria, in realtà è proprio quella di puntare anche alle famiglie, ai privati, ai cittadini. Cioè, chi di noi, anche pur non avendo un'impresa, pur non avendo un'azienda, volesse usufruire dei servizi, di un'associazione per aiutarsi nelle cose quotidiane della vita, ecco che esiste Confesercenti. Francesca Ingrassia, responsabile del patronato, quali sono i servizi? Cioè, io, Antonio, a tutti che decido un giorno di fare qualcosa, vorrei avere un aiuto. Vengo da te e tu mi aprirai sicuramente un mondo. Come no, certo. Allora, intanto volevo fare una piccola premessa, perché Confesercenti ha fatto un po' questa piccola rivoluzione di voler potenziare proprio i servizi alle persone. È stata da sempre un'associazione molto concentrata nei servizi alle imprese, non che non si facessero i servizi alle persone, ovviamente il patronato esiste da sempre, esiste da lungo tempo, però si è voluto potenziare proprio questo aspetto. Innanzitutto siamo usciti proprio fisicamente dal Palazzo di Confesercenti, proprio per dare questo messaggio di essere, voler essere un patronato aperto a tutti i cittadini. Ci siamo trasferiti al piano terra, siamo sempre in Confesercenti, ovviamente, perché siamo emanazione sindacale della categoria, ma non solo. Vogliamo essere aperti a tutte le categorie con la totalità dei nostri servizi. Quindi siamo al piano terra insieme al CAF, con il quale lavoriamo in sinergia. Anche questo è un messaggio forse nuovo che vogliamo dare. Tutti i servizi devono lavorare in sinergia, abbiamo cominciato alla grande a fare questo lavoro. Il mondo del patronato ha una vastità di servizi, brevemente te li posso riassumere, noi ci occupiamo di servizi sociali, quindi tutto quello che rientra nel welfare compete il patronato e quindi tutela il cittadino e lo rappresenta nei confronti degli istituti assicurativi che sono IMSS ed INAIL. Quindi dal mondo della previdenza, dallo studio della posizione assicurativa, a come una persona può andare in pensione, questa è forse la parte più importante del patronato. Non è solo questo. Poi ne parleremo tra un po' riguardo anche proprio qui. Alla manovra finanziaria che è appena uscita, certo. Ma ci occupiamo anche delle maternità, naspi, quindi tutto il mondo del sostegno al reddito. Pensiamo a quello che è stato l'assegno unico che ha portato un po' a una rivoluzione per tutti noi dipendenti, ma non solo per i dipendenti, anche gli autonomi sono stati ricompresi nel mondo degli assegni, insomma, il mondo dell'invalidità civile e soprattutto il mondo INAIL. Quindi nel momento che succede un infortunio o c'è una malattia professionale da dover tutelare, da dover presentare, noi abbiamo un professionista che è un medico legale bravissimo, il dottor Alessandro Pasquali, che visita gratuitamente in sede e che tutela appunto il mondo degli infortuni e del lavoro. Qui è nata una bella sinergia con Filippo del mondo paghe, per cui quando succede un infortunio, per chi vuole, ha proprio l'assistenza gratuita del miglior patrocinio possibile nei confronti dell'istituto INAIL. Abbiamo cominciato la grande anche a fare questo lavoro e siamo molto contenti. Quindi dall'invalidità alla pensione, a tutto il mondo del sostegno al reddito, al mondo INAIL il patronato c'è e rappresenta tutte le categorie. Veramente andiamo dal mondo dei marittimi, al mondo dei dipendenti, al mondo degli autonomi. E al mondo anche dei singoli cittadini. Al mondo dei singoli cittadini sappiamo che la previdenza, io torno sempre su questo punto, perché è un settore complicato, non è semplice, è un mondo in continua evoluzione che presuppone uno studio continuo, per cui occorre assolutamente un approccio consulenziale. Non si può prescindere da questo perché non esiste un unico modo di andare in pensione, per cui veramente la possibilità di uscita va studiata ad hoc sulla posizione del cittadino. Ormai non si trovano più posizioni contributive lineari, per cui una persona che ha cominciato un lavoro finisce poi la propria carriera. Io poi ne so qualcosa, sono una abbastanza irrequieta da questo punto di vista. Hai fatto anche la barman oppure no? No, la barman, quella mi manca, ma non è detto che in un futuro prossimo. Se riesco a organizzare un piccolo bar metteremo lei dietro. Intanto il corso c'è e quindi veramente la previdenza va studiata nel dettaglio, l'approccio consulenziale è fondamentale, ci ritroviamo posizioni che hanno vari spezzoni contributivi dal pubblico al privato, alle casse private e per agganciarmi alla manovra che è uscita finanziaria Magari ne parliamo fra un po', perché adesso volevo chiedere a Filippo Gaudenzi invece, che è il consulente del lavoro di riferimento di Confesercenti, quindi è colui al quale si rivolgono le imprese, si rivolgono gli imprenditori, si rivolge chi ha un'azienda, chi la vuole probabilmente anche fare partire. Quindi anche questo è un ruolo fondamentale, soprattutto in una congiuntura generale così difficile come quella che stiamo vivendo. Certo, noi ovviamente forniamo tutta l'assistenza che possiamo alle aziende, la Confesercenti l'ha sempre fatta, nasce con l'assistenza fiscale, contabilità e quella della gestione del personale, che poi adesso nell'ultimo tempo si è allargata molto anche verso il patronato con il quale dialoghiamo tantissimo e che ovviamente gestendo proprio il personale delle aziende possiamo dare anche al personale proprio un'assistenza che prima era data solo all'azienda attraverso la gestione proprio della busta paga o della contabilità nel caso contabile. Oggi possiamo andare proprio anche proprio al dipendente e dare un servizio che prescinde dall'azienda ma va proprio sulla persona, sul dipendente che ha bisogno di fare tante cose tipo una pratica di disoccupazione, una NASPI quando perde il lavoro oppure ci sono tante pratiche che ci vengono a richiedere dipendenti perché non sanno dove andare, dove noi prima magari eravamo carenti oggi invece possiamo dare anche al dipendente un grosso aiuto. Quindi a livello diciamo di personale noi abbiamo investito tanto anche nei giovani, usciamo per modo di dire perché ancora non è finito da un ricambio generazionale e quindi abbiamo sia persone che hanno tanti anni di esperienza sia persone che sono appena arrivate e possono godere dell'esperienza delle persone che trovano e portare a loro volta anche quella genuinità e quella freschezza che non so nel campo informatico magari certe volte a chi ha un'età come la mia o anche di più può venire a meno. Quindi questo connubio sta portando veramente delle grandi risorse e una grande spinta verso quello che noi vogliamo sia il futuro cioè un'associazione che possa dare aiuto a tutti sia agli associati sia alle imprese che ai dipendenti ma anche ai cittadini, ai normali cittadini perché non ci precludiamo il cittadino, il normale cittadino ma anche un'associazione che possa veramente spingere sul futuro e dare un servizio a tutto tondo cioè chi entra in confesercenti non deve avere esigenze di andare altrove a cercare quello che gli serve lo deve trovare dentro confesercenti. Un sistema quindi di vasi comunicanti che fra loro dialogano hai riferito un concetto importante, quello del cittadino, nel senso che io dico sempre prima di tutto noi siamo tutti cittadini, poi tutti cittadini che hanno ognuno il proprio ruolo e quindi svolge un determinato compito. Per esempio Filippo, ne parlavamo prima tu ti occupi appunto di personale, c'è questa definizione così difficile da apprezzare o da comprendere che risorse umane. Però questo discorso di risorse umane veramente tende più a spersonalizzare l'essere umano piuttosto che a dargli una ben precisa collocazione almeno io la penso così. Credo che anche tu sia d'accordo. No, no, concordo pienamente, lo diciamo prima, la risorsa umana è qualcosa che rende il dipendente poco umano, nel senso poco persona, è una risorsa. Invece noi vogliamo sia dentro confesercenti ma anche il messaggio che mandiamo fuori ai nostri associati è quello di vedere il dipendente come soprattutto una persona che ha il suo mondo, le sue difficoltà e che può produrre meglio quando viene capito come persona piuttosto che cercare di tralasciare l'aspetto personale del dipendente per concentrarsi solo sulla sua produttività. Questo sembra, non crediamo sia un concetto che possa passare, che possa essere il futuro. Considerate che anche a livello di medicina, nella medicina personalizzata, oggi i medici che curano le persone, al di là dell'aspetto prettamente sanitario, vanno a studiare tutta la sua situazione in generale perché sapere che lavoro fa, quante ore passa al lavoro, quante ore passa in macchina, che tipo di vita familiare ha, aiuta tantissimo il medico a centrare meglio la terapia ed è un pochino quello che fate voi. Certo, ormai oggi è chiaro, penso ormai palese che la persona che ha una sfera personale proprio, felice, contenta, possa anche produrre meglio e quindi non è un aspetto che possiamo tralasciare. Anzi, noi che abbiamo una gestione, chiamiamola familiare, siamo anche contenti là dove ci sono dei problemi di poter, quando si può dare una mano e quando viene richiesto. È chiaro che poi dopo il rapporto, le relazioni sono importantissime, nelle relazioni, bisogna essere almeno in due e quindi bisogna saper comunicare, saper recepire il messaggio che viene dato e avere una risposta, come dire, pronta da dare, una risposta che possa essere, se non una soluzione, un aiuto a risolvere. Pensate che ultimamente c'è stata una ricerca su una categoria ben specifica che ha fatto uno studio per capire quali sono le motivazioni che portano i dipendenti a lavorare bene. La prima è benessere nell'ambiente di lavoro, il rapporto con i colleghi, quindi al di là addirittura degli aspetti economici, quindi è davvero un elemento importantissimo, credo che quello che ha detto Filippo Gaudenzi sia fondamentale, l'imprenditore, il datore di lavoro che comprende questo aspetto sicuramente avrà un'azienda che risponde molto meglio anche con le persone che lavorano. Francesca, ti ho bloccato prima perché questo argomento mi interessava particolarmente, poi ci avveremo alla conclusione con Alessandro. La questione delle pensioni, la questione della previdenza, la recentissima legge di bilancio che ancora abbiamo visto che non è definita nei suoi dettagli, ha dato alcune novità, alcune novità che credo sia molto utile che tu molto brevemente ci possa spiegare. Guarda, ormai le manovre finanziarie di ogni anno ci hanno abituato ad avere un scenario previdenziale sempre in divenire. Ogni anno vengono poste nuove possibilità di uscita, quindi aumenta sempre di più la flessibilità proprio per dare delle alternative all'impianto della legge Fornero. Ci aspettavamo forse per quest'anno l'abrogazione di questa legge, si parla tanto di nuovo impianto previdenziale, così non è stato, forse era anche, non so, capibile vista la congiuntura economico-politica internazionale che stiamo vivendo, per cui ci sono nuove possibilità, appare la nuova quota 103, per cui 41 anni e 62 anni di età è una quota proprio secca, per cui la somma semplice di contributi ed età, che si va a sommare a tutto quello che già è stato finora, quindi quota 100, ancora valida per requisiti maturati precedentemente, quota 102, che l'abbiamo vista essere ancora valida per quest'anno, futura quota 103. Quindi lo scenario diventa sempre più complicato perché oltre l'impianto, diciamo quello base della Fornero, ci sono poi tutte queste nuove possibilità che si aggiungono e che vanno valutate nel momento che una persona deve andare in pensione. Novità è la proroga di opzione donna con delle condizioni mutate, vedremo meglio nel dettaglio, pare che incidano poi le maternità che una donna ha avuto, quindi questo sarà determinante per valutare l'età, al di là dei 35 anni poi di lavoro effettivo che vanno considerati. La quota 41, che è invece un intervento strutturale a regime per tutti i precoci e per tutti coloro che fanno soprattutto un lavoro gravoso. È già estesa la lista dei lavori gravosi, quindi dobbiamo considerare anche quello, oltre il lavoro usurante, è poi la proroga dell'app social, che è un bel ponte che accompagna all'età della vecchiaia e che è una valida alternativa per tutti coloro, ad esempio, che si trovano nella impossibilità di essere ricollocati e va assolutamente considerato anche quello. Quindi lo scenario è veramente vasto e diciamo la possibilità di uscita, io lo ripeto sempre perché così è, va cucita veramente sulla situazione poi personale di ognuno di noi. Sul singolo, anche perché poi tante volte si dice così magari anche senza sapere bene vado in pensione prima ma dopo ci rimetto, quanto ci rimetto, ci guadagno. È proprio questo, perché va valutata non solo poi la decorrenza ma anche l'importo, quindi sappiamo che chi esce con un calcolo puramente contributivo ha poi una riduzione nella misura della pensione e quindi poi lì subentra la scelta personale di ognuno. L'importante è che abbia sotto mano tutte le possibilità che ha per poter scegliere nel miglior modo possibile. La pensione è un traguardo sacro per ognuno, quindi... Sì, sì, è una di quelle classiche cose cui quando si comincia a lavorare non ci si pensa, da giovani, ma la pensione. Esatto. Poi state certi che nella maggior parte dei casi speriamo arriva per tutti, quindi arriva il momento nel quale ci si deve. Invece guarda il consiglio che posso dare è di verificare la propria situazione contributiva a metà del percorso della propria vita, perché ci sono situazioni che uno non si immagina pur con delle situazioni poi di lavoro regolari, ci sono delle anomalie che prima vanno definite e meglio è per arrivare poi pronti, preparati. Quindi c'è proprio uno studio della posizione contributiva che va fatto anche nel momento che tu, non so, devi scegliere un cambiamento nella tua attività lavorativa. È il lavoro che stiamo facendo con i consulenti del lavoro, perché non collaboriamo solo con Filippo, ma anche esternamente crediamo che il fare rete anche verso l'esterno sia assolutamente un valore aggiunto. Non abbiamo questo atteggiamento di chiusura, ma assolutamente di apertura verso anche altri professionisti del mondo del lavoro. In questo poi siamo molto professionali, per cui ognuno ovviamente ha i propri clienti, ma aumentare la collaborazione crea valore aggiunto. Quindi su questo siamo convinti e stiamo lavorando proprio su questo. Nonostante ci possano essere pareri di vario tipo, in generale l'apertura è un elemento positivo che porta ad allargare gli orizzonti, a poter fare valutazioni sempre maggiore. La chiusura poi non paga e non porta a quello sviluppo verso cui invece siamo orientati. E adesso noi però ci avviamo alla chiusura e con Alessandro, perché ancora è lontana l'età della pensione. Nonostante la preparazione non riesce a mandarmici in pensione. Esatto, non ce la fa. Infatti, ma anche perché non ti vogliamo ancora in pensione, se hai tanto da dare. Confesercenti ha quindi, diciamo, una storia, l'abbiamo detto, un presente fatto di tante cose e sicuramente un futuro importante. Progetti, qualcosa allo studio, c'è qualcosa che bolle in pentola di nuovo? Progetti, idee, ne abbiamo un'infinità. Abbiamo insieme, questa è una piccola parte della squadra, perché, l'ho detto, anche già l'altra volta, facciamo riferimento sempre alla volta precedente. In questo annetto abbiamo creato una bella squadra, una bella squadra che produce, produce idee, non solo effetti economici, ma idee importanti anche da questo punto di vista. Vedi, io penso che l'effetto economico non deve essere mai un obiettivo, ma un risultato. Viene di conseguenza, esattamente, l'idea è stata proprio questa, non puntiamo al mero risultato economico immediato, perché poi non c'è futuro, quindi magari lo raggiungi oggi, ma domani poi senza un progetto, senza una continuità, un concorso di idee, quindi dopo rimane anche difficile, soprattutto in tempi come questo. Invece ne abbiamo un sacco, stiamo incrementando di nuovo il piccolissimo spoiler che poi magari faremo in grande stile il nostro settore del credito. Noi abbiamo già la nostra cooperativa di garanzia, quindi la nostra Fincost che garantisce tutti i prestiti, eccetera. Ma unitamente, il discorso di fare anche squadra all'interno, unitamente al nostro ufficio bandi potrebbe accompagnare, per esempio oggi c'è un bando regionale per la creazione di impresa, ecco, fondo perduto, sono 20 mila euro, fondo perduto lì per i disoccupati e gli inoccupati, unito a un prestito garantito dalla nostra Fincost, quindi che è la nostra cooperativa di garanzia di riferimento, proprio di confesi arcenti, unito poi a di nuovo a un altro bando che potrebbe uscire, un'impresa che vuole nascere da noi, si trova un mondo già bello e preparato, quindi ha già un'accoglienza e insomma viene un po' accompagnato in tutto quello che potrebbe essere, che possono essere, che ci sono poi delle grandi difficoltà per aprire un'impresa perché ci vogliono risorse, ci vogliono idee anche per l'imprenditore e così. Quindi abbiamo da quel punto di vista lì un bel progetto che sta nascendo, anche qui persone che stanno finendo di prepararsi, lì sono previsti anche degli esami, quindi esami importanti anche verso la Banca d'Italia, quindi stiamo costruendo tutto un mondo che consenta anche all'impresa, oltre a trovare i servizi tradizionali, paghe, contabilità, altissima qualità, i miei ragazzi io non finirò mai di ringraziarli perché è su quello che oltretutto, su questi due servizi che stiamo costruendo tutto il futuro, perché sono comunque la base di partenza dalla quale per forza partire, fino poi arrivare al patronato, al mio collega Giuseppe che con Antonino stanno cominciando a sviluppare questo mondo dei bandi, poi Andrea che è uno dei ragazzi nuovi che abbiamo preso, veramente questi ragazzi hanno uno sprint in più, sono fantastici. Alessandro, per riassumere, idee, fatti, che vuol dire bandi, vuol dire aiuti per capire come comprenderli, come utilizzarli, consulenza a 360 gradi, vediamo come aprire l'impresa, quale forma dargli, come organizzarci col personale, consulenza a livello di tantissimi aspetti, INAIL, previdenza, quindi veramente Confesercenti, un mondo che è capace di accogliere chi voglia per qualche modo, per qualche motivo suo, che poi sono quelli più belli, che portano all'avere un'attività bella, proficua nella vita, perché si dice sempre che chi fa il lavoro che gli piace fare non lavora mai e quindi è una cosa importantissima, entra in Confesercenti e trova tutto questo. Davvero vi ringrazio per questa tavola rotonda che è stata interessantissima, anche per gli argomenti di attualità che abbiamo potuto affrontare. Grazie ad Alessandro Ligurgo. Ma grazie a te, grazie alla rete. Grazie a Francesco Inglacina. Grazie dell'accoglienza, grazie mille. Grazie a Filippo Gaudenzi. Grazie, grazie mille. E in questo clima di grandi ringraziamenti, anche ringraziamenti a voi che ci avete seguito questa serata, ma sicuramente siamo convinti che ne sia valsa la pena. Buon proseguo a tutti. Arrivederci.